E siamo proprio allo spalatriello, come potete vedere alle mie spalle le fiamme. Nonostante l'inverno sia appena terminato, sull'isola Dischi è già emergenza incendi. Dopo quelli che nei giorni scorsi hanno interessato la collina, sovrastante il campo di calcetto dello spalatriello e quella in zona a buttavento da ore, un nuovo grosso incendio, si è sviluppato a Barano, nella frazione di Testaccio. Guardiola e Monte Cotto sono le due zone collinarie avvolte dalle fiamme. Sul posto da ore i vigili del fuoco, le squadre antincendio regionali e i volontari avi della protezione civile sono impegnati a spegnere le fiamme. Da Napoli è giunto anche un elicottero che si rifornisce di acqua marina nella suggestiva Baia dei Maronti. L'incendio ha duramente colpito una zona di bosco di castagna e un querceto e sarebbe divampato da due fronti diversi. Grazie a tutti.